Musica Ben ritrovati con l'informazione di RTC Quarta Rete. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale parlando di Cava dei Tirreni dove ancora una volta fa ripuntati sull'impiantistica sportiva. Se a tenere banco in queste ore la vicenda stadio scade il prossimo 18 settembre il bando per l'affidamento in concessione ai privati dell'area dell'ex velodromo che diventerà un parco dello sport per tutti. C'è tempo fino al prossimo 18 settembre per presentare domanda di partecipazione alla gara per la concessione in gestione ad un soggetto privato dell'impianto sportivo denominato Parco dello Sport per Tutti ovvero l'ex velodromo di via Idolongo. L'obiettivo dell'amministrazione comunale sul quale sta lavorando alla cremente il consigliere Eugenio Canora è quello di consegnare alla città un'area che da troppo tempo versi in uno stato di abbandono e degrado. Costata però alle casse comunali per una serie di interventi di riqualificazione oltre un milione di euro. Scade il 18 settembre la gara per la concessione in gestione dell'area ex velodromo oggi Parco dello Sport per Tutti dove immaginiamo un Parco dello Sport quanto più inclusivo che mette insieme sia gli sportivi, gli atleti con disabilità che gli atleti, i ragazzi ma anche contro la dispersione scolastica e per l'inserimento anche degli atleti un po' più anziani per le famiglie. Abbiamo scelto un meccanismo di partnership con i privati ed ecco perché è in corso di svolgimento questa gara perché il comune deve scegliere un partner per la realizzazione di quest'opera che verrà a costare da un minimo di 150-180 mila euro per il ripristino delle condizioni di uso fino a quello che è nella fantasia del partecipante perché non c'è limite alla provvidenza, anzi un unico vincolo c'è quindi quello di non aggiungere volumetrie però si può realizzare in quell'area un campo sportivo, più campi sportivi anche coperti con tenso strutture perché no anche strutture interrate e quant'altro, aree per famiglie eccetera. Abbiamo bisogno sul nostro territorio di imprenditori seri che vogliano realizzare attraverso lo sport anche un volano per il turismo e la crescita del territorio. Questo meccanismo di selezione è organizzato in modo che chi partecipa alla gara e se la giudica se realizza esclusivamente il minimo a farsi prende soltanto i primi 12 anni di gestione altrimenti fino a un massimo di 20 anni. Noi come ente pubblico possiamo fare due promesse agli imprenditori che intendono partecipare a questa gara. La prima è che la gara sarà una gara per sportivi e quindi che vincerà il migliore sia in termini di proposizione sportiva, culturale, inclusione sociale e i punteggi sono abbastanza chiari, sono molto chiari quelli impostati in gara. E la seconda è che anche dopo la giudica della gara l'ente avrà sempre un occhio attento per la risoluzione di quei piccoli problemi che nella realizzazione di questo progetto sportivo si potranno andare a determinare. Abbiamo, ripeto, bisogno di importanti imprenditori che credano nello sport e che credano nel nostro territorio. Nel frattempo, mentre in città tiene banco la questione stadio, l'amministrazione ha il lavoro per cercare di pubblicare in tempi brevi un nuovo bando che sia più appetibile per i soggetti privati per la realizzazione del paleventi di pregiato. Buoni libro regionali e abbonamento Unico Campania gratuito per gli studenti iscritti all'anno scolastico e accademico 2019-2020. Tutti i dettagli nel servizio che segue. Aperta la campagna abbonamenti gratuiti agli studenti di Unico Campania per il percorso casa-luogo di studio. Gli studenti che possono presentare domanda devono possedere i seguenti requisiti. Residenza in campania, età compresa fra gli 11 e 26 anni, iscrizione a scuola secondaria di primo e secondo grado o università e il possesso della certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. La richiesta può essere presentata esclusivamente online, nell'apposita sezione del sito abbonamentiunicocampania.it. Per tutti gli interessati, l'ufficio in forma giovani del nostro comune sarà di ausilio per l'iscrizione sulla piattaforma dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12. Inoltre è possibile richiedere i buoni libro previsti dal contributo regionale, tramite cedule librarie, per l'anno scolastico 2019-2020. L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente mediante domanda online, entro e non oltre, il 2 settembre 2019, utilizzando l'apposito link Buono Libro, disponibile sul sito tematico dell'ufficio pubblica istruzione Cava. Al fine di facilitare la compilazione, è stato pubblicato anche un tutorial sul portale YouTube rintracciabile digitando Coupons Book. È possibile compilare la domanda presso i seguenti uffici. Ufficio in forma giovani e biblioteca comunale, da lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, e presso l'ufficio istruzione del palazzo di città, negli orari di apertura al pubblico. Ancora rughi in costiera amalfitana. Le fiamme, a distanza di pochi giorni, sono divampate nuovamente nella zona di Capodurso. Di nuovo fiamme in costiera amalfitana. A bruciare ancora questa notte la zona di Capodurso, già colpita lo scorso 9 agosto, da un ruogo che rese necessaria in un primo momento la chiusura del tratto della strada statale 163 amalfitana, interessato dalla caduta sulla sede stradale di Pierresidui Arborei, poi riaperto nei giorni successivi a senso unico alternato. L'incendio è divampato intorno a luna, della notte tra giovedì 22 e venerdì 23 agosto. Sul posto sono prontamente accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Maiori. Inoltre anche i volontari della protezione civile Millennium Costa d'Amalfi e della pubblica assistenza Icolibri si sono prodigati nelle operazioni di spegnimento. Nel tentativo di frenare il rapido incedere delle fiamme, che hanno divorato ettari di macchia mediterranea, oltre a minacciare alcuni tralicci dell'alta tensione nella strada sottostante, intorno alle 10.30 del mattino poi è entrato in azione anche un elicottero con cestello. Successivamente è giunto anche un ulteriore mezzo aereo della forestale, capace di imbarcare ben 9.000 litri d'acqua. E per consentire lo svolgimento delle operazioni in totale sicurezza, i vigili urbani del comune di Maiori stanno provvedendo a regolare nei momenti di necessità le temporanee chiusure del tratto di strada sottostante al rugo. E a Battipaglia si avvicina il giorno del disinnesco dell'ordigno bellico. Per la gestione delle operazioni, in programma il prossimo 8 settembre, sono stati stanziati dalla Regione 86.000 euro. Per affrontare l'emergenza per il pagamento delle spese e per garantire la piena attuazione del piano operativo di evacuazione previsto per domenica 8 settembre a Battipaglia, per il disinnesco dell'ordigno bellico rinvenuto a marzo scorso in località Villani, lungo la SP 135, la Regione Campania ha proceduto con decreto dirigenziale dello scorso 30 luglio a stanziare 86.000 euro di fondi. Tanto costerà, seguendo l'ordinanza pubblicata ieri 22 agosto e firmata dalla sindaca cecilia-francese, condurre la massiccia opera che costringerà 37.000 battipagliesi a lasciare le proprie case a partire dalle ore 5 dell'8 settembre quando scatterà l'obbligo di abbandono dell'area di 1,6 km nel raggio della posizione dell'ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Mentre gli artificieri opereranno, Battipaglia sarà deserta. Non solo, andrà liberato anche l'ospedale Santa Maria della Speranza e si procederà a chiudere al transito la 2 del Mediterraneo e la linea ferroviaria. Nell'ordinanza che fissa l'attivazione del centro operativo comunale che troverà spazio all'interno dei locali della protezione civile battipagliese in via Gonzaga, viene stabilito che le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all'interno delle funzioni attivati e tra i singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo alla stessa sindaca francese, coadiuvata dal dirigente del Servizio di Protezione Civile, il tenente colonnello Gerardo Iuliano, anche a capo della Polizia Municipale e con funzioni di coordinatore del centro operativo comunale e dal dirigente del settore tecnico-urbanistica del Comune, l'ingegnere Carmine Salerno, una macchina organizzativa imponente, stilata di concerto con la Prefettura, che investe la questura, il commissariato della Polizia di Stato, il comando della Compagnia dei Carabinieri, la Regione, la Provincia, la Polizia Municipale e il Nucleo di Protezione Civile. Si è svolto ieri sera, presso la Villa Comunale di Vietri sul Mare, il secondo Memorial Dottor Michele Siani. Durante la serata ha consegnato anche un premio speciale a Roberto Battiloro, padre di Giovanni, giovane videomaker, che il 14 agosto del 2018 ha perso la vita nel crollo del Ponte Morandi di Genova. Una platea attenta, una serata ricca di emozioni ed un panorama mozzafiato hanno caratterizzato il secondo Memorial Dottor Michele Siani, svoltosi ieri sera nello splanido scenario della Villa Comunale di Vietri sul Mare. Voluta fortemente dagli amici più stretti di Michele, in sinergia con l'amministrazione comunale e che ha visto la partecipazione di tanti cittadini vietresi e non solo, che negli anni hanno conosciuto la professionalità del medico, ma anche l'umanità dell'uomo Michele, l'edizione 2019 del Memorial a lui dedicato è stata anche un momento di riflessione ed uno spunto per tematiche sociali importanti. Innanzitutto abbiamo fatto nostro questo Memorial Dottor Michele Siani innanzitutto concedendo il patrocinio, ma soprattutto inserendolo tra gli eventi più importanti del nostro cartellone estivo. Michele Siani era soprattutto un medico serio e scrupoloso che ha fatto della sua professione, io dico, una missione, una vera e propria missione. Era una persona buona e stimata, era un uomo buono, per questo motivo appunto, tutti gli volevano bene e in particolare in parecchi chiedevano le sue cure, sia di giorno che di notte, cure che sappiamo, noi di Vietri in particolare, sappiamo benissimo che erano per lo più gratuite, diciamo sempre gratuite. In scena, lo spettacolo teatrale dal titolo Sogno di un primario di mezza estate, tratto da uno scritto di Michele Siani e commediato da Ivano Montano per la regia di Antonella Raimondi. Subito dopo, la consegna di un premio speciale istituito dall'organizzazione a Roberto Battiloro, padre di Giovanni, il giovane videomaker che il 14 agosto del 2018 ha perso la vita insieme alle altre 42 vittime nel crollo del Ponte Morandi di Genova. Molteplici i tratti comuni tra Giovanni e Michele, innamorati della vita e della musica, intraprendenti professionisti dall'animo buono. Come famiglia Battiloro siamo molto onorati, orgogliosi di aver avuto questa onoreficenza accanto a un medico di Vietri sul mare, Michele Siani, un uomo veramente eccezionale, eclettico, che viveva la vita così un po' come la viveva mio figlio Giovanni. Quindi siamo qui a portare la testimonianza di un ragazzo di 29 anni morto in una tragedia così grande del 2018, il crollo del Ponte Morandi, cercando di chiedere e di sensibilizzare tutti, tutte le persone che ci ascoltano alla ricerca della verità e della giustizia, perché questo ponte qualcuno l'ha fatto cadere, qualcuno ha ucciso queste 43 persone e bisogna trovare una verità. Chiediamo agli italiani tutti, a tutti coloro che hanno a cuore questa tragedia di comprendere che è l'ora di smetterla con la società del profitto e quindi bisogna ragionare con la società dei sentimenti, della vita. Quindi chiediamo un atto di ribellione della società italiana nell'esserci diciamo sempre più vicini, vicini alle famiglie delle 43 vittime per lottare insieme per trovare una verità e quindi una giustizia. E a concludere l'evento tanti musicisti ed artisti vietrese e non solo che hanno alletato la serata ricordando in musica il medico vietrese più amato di sempre. Ed ora sport, calcio, domenica debutta la Cavise contro il Picerno. Mister Francesco Moriro ci tiene molto a cominciare col piede giusto in campionato. La Paganese invece affronterà la Viterbese. Francesco Moriero l'allenatore della Cavise ci tiene molto al debutto in campionato che avverrà domenica sera a Castellammare contro la Zeta Picerno nella prima giornata della C. Ieri pomeriggio il tecnico Aquilotto ha diretto sul campo di Pregiato una lunga seduta tattica con i propri giocatori facendo ripassare loro le varie soluzioni che probabilmente vedremo nel corso della partita. Cominciare bene in un segmento del campionato in cui il calendario si presenta favorevole sarebbe importantissimo. Moriero che si aspetta un Picerno molto raccolto centralmente come nel più classico dei 3-5-2 è stato molto prodigo di consigli in particolare nei riguardi di Vincenzo Polito il terzino il quale cronologicamente parlando è comunque il terz'ultimo arrivato in casa bianco-blu. Inoltre il mister Salentino ha cercato subito di fare inserire negli schemi di gioco l'ultimo dei nuovi acquisti ossia la punta Ferdinando Sforzini. Potrà esserci ancora posto per un ulteriore tassello? La risposta potrebbe essere duplice. La Mazza il direttore sportivo della Cavese ha scelto il centrale ex Gianna Erminio Gianluca Rocchi facendo capire con questo intervento che il giocatore col sudore della fronte saprà conquistare pubblico e critica ma d'altra parte guardando il curriculum Rocchi non dispone ancora dell'esperienza che ha Lino Marzonatti quindi una riserva alla pari dell'ex centrale dell'Empoli non sarebbe comunque del tutto da escludere c'è da vedere che cosa dirà il campo comunicata la numerazione ufficiale della Cavese che non si discosta molto da quella che era stata resa nota a inizio agosto il numero due è passato a Polito il 20 che era del giocatore Besana che poi ha rescisso è stato dato a Rocchi con il numero 32 abbiamo Sforzini oggi l'ultimo giorno utile per gli abbonamenti della Cavese e visto come è stato bene accolto proprio l'ingaggio di Sforzini si spera davvero in un'impennata domenica c'è anche Viterbese Paganese fischio d'inizio alle 17.30 allo stadio Rocchi di Viterbo e si affronteranno due compagini che sono due cantieri aperti in particolare le strategie della formazione della Tuscia dipenderanno ora dalle richieste che farà il tecnico Giovanni Lopez tornato qualche giorno fa a Viterbo al posto di Calabro dieci mesi dopo l'esonero potrebbero mancare a tutt'oggi un centrocampista e un difensore non trova in questo momento terreno fertile sul mercato la Paganese ha provato in vano a prendere Sforzini e De Marco i due non sono arrivati e non si sono convinti nemmeno l'attaccante Manconi e lo stopper Bernardini intanto passi in avanti per il settore distinti dello stadio Torre che a partire da lunedì dovrebbe essere dotato di sediolini e dovrebbe essere anche rafforzato nella staticità anche a Pagani succede un po' quello che era accaduto a Cavare Tirreni ma nell'ambiente azzurro stellato la speranza è che si possa nuovamente fruire dei distinti per la quarta giornata di campionato Paganese Virtus Francavilla o per la sesta Paganese Rende e con lo sport si chiude questa edizione del nostro telegiornale l'informazione di RTC Quarta Rete torna più tardi buon proseguimento di giornata Paganese Virtus Francavilla Paganese Virtus Francavilla Paganese Virtus Francavilla